Onorevole Russo, la bocciatura degli emendamenti sulla parità di Genoa ha fatto fare una gran bella figura al Parlamento? Guardi, intanto rispetto ad una legge elettorale che aveva liste bloccate, per quanto corte è evidente che sarebbe stato impensabile introdurre un elemento coercitivo che non consentiva una valutazione di merito e di qualità. Noi di Forza Italia abbiamo straordinarie colleghe, molto brave, non scelte per quote ma scelte perché sono brave, abbiamo avuto anche ministri donne molto brave, mai scelte perché credevamo che bisognava rispettare una quota, ma sempre scelte perché erano in quella materia brava, erano capaci di esprimere al meglio il nostro sentimento e il sentimento del popolo. Se viceversa vi fosse una condizione di opzione, quindi attraverso una possibilità di scelta per preferenza, allora potrebbe essere naturale un'introduzione di quote. Ma siccome noi abbiamo scelto una norma che sia visibile con liste molto corte e quindi capaci di essere comunque individuate dall'elettore, abbiamo ritenuto che la strada migliore fosse quella di evitare queste quote che a noi sembrano più quote e recinti che non opportunità vere. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.